buonasera e bentornati su italia military archives oggi facciamo una cosa un po differente altri youtuber sicuramente avete visto hanno fatto serate di dedicate alla community io non l'avevo mai fatto e anche un po per ringraziarvi del dell'attenzione che state dando al canale negli ultimi mesi ho deciso di dedicare un po una serata alla community e a rispondere a alcune delle domande che fate sotto i commenti che magari non riesco a rispondere domande che vengono su vengono fatte su instagram facebook eccetera eccetera per chi è attento nelle scorse settimane ho fatto dei post su instagram e qui su youtube per raccogliere le domande perché mi piace insomma preparare delle risposte un po sostanziali agli utenti e gli appassionati di cose navali poi ci sarà una parte cercherò insomma di non tenervi troppo a lungo e dopo prenderò domande dalla chat prova provando a rispondere così in diretta prima di tutto volevo fare una piccola comunicazione di servizio ovvero che volevo segnalarvi questa fiera militare una fiera di militare del software però c'è un ci sono dei padiglioni dedicati alla vendita di libri materiali per il re in act e quant'altro quelli appassionati di storia militare è un paradiso io di solito finisco sempre a tornare a casa con una borsata di libri tanto anche libri usati fuori dal commercio che non si trovano facilmente che sono davvero delle perle quindi ve la voglio segnalare io sarò lì il 22 ottobre per chi fosse in zona scrivetemi attraverso i social magari vediamo di incontrarci detto questo torniamo a noi e come vi dicevo ho preparato una serie di risposte alle domande che sono pervenute però prima volevo chiarire una cosa il genere delle navi militari avrete sentito che io utilizzo il cioè il genere maschile il vittorio veneto il roma perché perché si fa così in marina è una regola non scritta perché non è mai non mi risulta sia stata mai formalizzata però in marina si fa così se uno dice la nave da battaglia vittorio veneto è corretto c'è il femminile però se si usa solo il nome è il grazie un amico ho recuperato un articolo del del 98 apparso sulla rivista marittima di aldo fraccaroli grande fotografo navale mai esistito in italia e lui nel 98 scriveva appunto su questa questione navi militari italiane tutte di genere maschile scrivo questa precisazione inutili inutile per quanti sono in servizio su esortazione di un ufficiale di marina e scrittore che desidera vedere nero sul bianco tale chiarimento rivolto ai giornalisti e agli appassionati di marina che aspirano a entrarvi o ne trattano la differenza tra l'uomo che serve o ha servito nella nostra forza armata e chi è tale e chi tale non è consiste appunto nel dire il garibaldi invece che la garibaldi parla di come anche lui in accademia navale a livorno nel 39 venivano istruiti a questo uso del genere maschile poi c'era un passaggio passaggio interessante in cui lui dice se alcuni ammiragli e comandanti hanno scritto la vittorio veneto o la roma essi si valsero del femminile in libri destinati al grande pubblico che si sarebbe potuto stupire nel trovare l'articolo il davanti al nome di una nave di una corazzata di una corvetta e poi qui c'è una cosa simpatia di quel pubblico faceva parte il passeggero di una barca che nel 49 poco fuori pescara domandò a me imbarcato sul monte cuccoli se la carabiniere fosse partita a questo riguardo è opportuno trascrivere le parole del linguista luciano satta in vada come parli e come scrivi aperte le virgolette gli uomini di mare i quali anche se digiuni di vocabolario nelle faccende loro sono inappellabili quindi con questo diciamo vorrei chiudere la 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 questione de degli articoli intanto saluto i vari affissionados del canale sporting artigliere lo zio mike nostro amico bolognese vartema e tanti altri quindi chiuso questo piccolo incipit passiamo alla prima delle delle domande argomenti posti questa è stata fatta sia su instagram che su youtube è un tema ricorrente infatti mi sa che toccherà farci un video prima o poi ovvero il tema delle corazzate ricostruite io ne avevo parlato nel nel video sulla politica navale italiana tra il 22 e 40 però l'avevo messo insieme a tanti altri altri temi quindi magari stasera con cogliamo l'occasione di di riparlarne dunque qui vi ho riportato la foto del cavur prima della ricostruzione e dopo la ricostruzione guardate ricostruzione non a modernamento perché le navi furono radicalmente cambiate e quindi se per le navi da battaglia britanniche si può parlare di ammodernamento rimodernamento in questo caso si deve usare il termine ricostruzione qui vi ho messo una piccola linea temporale per ripercorrere gli eventi che sono fondamentali per capire la processo di ricostruzione ci vuole l'asterisco avete ragione io non lo userò comunque nel 32 la marine nazionale imposta il dunker che l'incrociatore da battaglia in risposta al alla classe deutschland impostata dalla germania e in quella fase si considera il il rimoderni la ricostruzione di cesare e capur questo perché non costruire nuovi nuove navi da battaglia cosa che avrebbe potuto fare la regia marina perché la francia e l'italia stando ai trattati navali potevano impostare delle navi navi da battaglia prima della fine della vacanza navale perché avevano partivano con un pool di navi da battaglia molto più datate rispetto a gran britannia e stati uniti per dire quindi potevano farlo ma decisero di impostare il procedere al rimodernamento di quel alla ricostruzione di quelle navi perché era ritenuta una via forse più da una parte più economica da una parte c'era anche il discorso che ci sarebbero poi stati nuovi tra nuove negoziazioni navali non non era chiarissimo ancora quanto sarebbero potute durare le vacanze navali quale sarebbe stato il futuro della delle navi da battaglia cioè ci sarebbero state ma si si tendeva insomma per tagliar corto a a prendere tempo nel 33 iniziano i lavori su Cesare Cavour a Genova e a Trieste poi nel 34 sappiamo che la marina nazionale imposta lo Strasburg il secondo incrociatore della battaglia classe Dunkerque e poi la regione marina sappiamo risponderà con l'impostazione delle due lettori nel 35 poi ovviamente la situazione internazionale in questa fase cambia come potete intuire nel 35 Italia e Giappone disertano i colloqui che si sarebbero dovuti tenere per il nuovo trattato sul disarmo navale che sappiamo dal 22 scadeva nel 30 nel 30 c'è il trattato di Londra che sarebbe scaduto nel 36 come appunto riportato qui nella nella scaletta e nel 37 vengono ultimati i lavori poi succede che vengono considerati già nel 36 vengono fatti studi per il modernamento ricostruzione del Doria e Duilio perché questo è un po' un aspetto che nella storiografia un po' un po' dibattuto nel senso se poteva avere un senso nel nel 33 procedere alla ricostruzione di Cesare e Cavour perché per i motivi che vi ho detto prima nel 37 non c'era più la vacanza navale si poteva diciamo era un po' un inevitabilmente state eh inferiori alle nuove costruzioni di di navi da battaglia ma anche a eventuali ammodernamenti di 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 super dreadnought della grande guerra o fine grande guerra e quindi c'è un po' la la domanda perché fu fatta questa fu si procedette la la ricostruzione di Doria e Duilio per economicità si pensava di poter disporre eh ad un costo relativamente ridotto di una squadra di quattro navi da battaglia che avrebbero comunque avuto il loro peso su eh nell'equilibrio di di una futura guerra specie se con la Francia che doveva comunque eh impegnarsi in 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 su più mari eh c'era sicuramente una soddisfazione per il risultato ottenuto su sulle sulle Cavour quindi non c'è una 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 risposta eh definitiva si si possono fare un po' queste supposizioni si può dire che le risorse le soprattutto le maestranze usate per la ricostruzione di quelle due navi sarebbero state utili per magari velocizzare i lavori su su Roma e sull'impero che eh erano state appunto impostate il trentotto quindi magari in Roma sarebbe potuto entrare in servizio prima appunto di domanda magari si sarebbe potuto allocare più personale alle costruzioni belliche quindi in primis caccia torpediniere torpediniere naviglio mercantile può darsi però comunque quelle quelle navi insomma furono utilizzate nel nei limiti delle riserve di nafta che come sappiamo furono utilizzate e poi nonostante fossero avessero dei limiti tendiamoci di fronte a eh squadre di incrociatori avversari queste navi potevano tranquillamente tenere alla larga squadre di incrociatori avversari avevano eh sicuramente una loro potevano potevano trovare una loro utilità in una guerra dove l'obiettivo principale era quello della protezione delle delle linee di comunicazione marittima non provare darsi appuntamento alla talora al tal giorno per la battaglia decisiva che una marina inferiore per quanto di una potenza eh non al pari di di Gran Bretagna e Francia poteva permettersi di affrontare quindi insomma questo un po' il discorso eh molto riassunto e visto insomma che è un argomento che in tanti poi tornano a chiedere eh magari ci faremo un video dedicato in futuro. Allora poi c'è stata una domanda eh riguardo l'ammiraglio Bernotti che mi ha fatto pensare che è un sarebbe bello anche lì fare degli approfondimenti specifici su sugli ammiragli perché anche lì c'è molto ci sono molti miti c'è molta eh disinformazione i soliti eh ammiragli traditori a ammiragli incapaci poi si va a chiedere quali sarebbero i casi fate nome e cognome quali sarebbero i momenti insomma qualcuno tituba qualcuno porta degli esempi che sono facilmente smontabili ehm tra le altre insomma Bernotti è un ammiraglio abbastanza poco sconosciuto diciamo poco conosciuto a gli appassionati meno agli addetti ai lavori gli addetti ai lavori è una figura molto eh conosciuta ehm mozzo a nove anni guardia marina già nel 1894 e che presto si dedicò a scrivere di cose di temi navali e marittimi ehm ebbe un'esperienza bellica sia nella guerra italo-turca che è nella grande guerra e poi molto importante lui negli anni negli anni venti e negli anni trenta fu uno dei protagonisti assieme a per dire Fioravanzo e di Gian Bernardino del dibattito strategico dottrinale che avveniva su attraverso la rivista marittima avveniva attraverso pubblicazioni di opere in cui si ragionava di cosa dovesse fare e non fare la marina nel negli scenari che si sarebbe che si sarebbero venuti a creare nel futuro fu anche il fu creato negli anni venti l'istituto l'istituto di guerra marittima che lui eh guidò per un po' di anni che era diciamo un un istituto che aveva luo che aveva posto nella all'interno dell'accademia navale di Livorno e che appunto guidò per per alcuni anni viene un po' ricordato in quanto lui era uno dei eh sostenitori della necessità di dotarsi di un'aviazione navale e soprattutto di navi portaeree ora non era il solo in marina a perorare questa causa un po' ne ho parlato nel nel video sulle portaerei che ormai è vecchio da più più di un anno e diciamo lui si trovò spesso a insomma parlare chiaro a Mussolini questo forse non non gli fece bene per la sua per la sua carriera eh e poi in questo libro che ho messo la copertina qui è il suo libro di di memoria è un'opera di memorialistica quindi da sempre prendere come un'opera di memorialistica però interessante quando ci sono eh scambi con altri personaggi dell'epoca c'è ho trovato un eh curioso scambio con Italo Balbo nel non mi ricordo se fine anni venti inizio anni trenta c'è una crociera di quelle che faceva Italo Balbo eh nel Mar Nero e lui va al seguito insomma della della squadra aerea come rappresentante della marina e a un certo punto c'è uno scambio con Italo Balbo Italo Balbo gli dice eh in sostanza eh tanto le 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 porteri non ve le faccio costruire insomma per rintuzzare no il eh la ferma opposizione della dell'aeronautica che la marina si dotasse di un'arma aerea propria e di uno strumento come la portaerei che avrebbe permesso l'utilizzo immediato del del potere aereo perché il il grande problema dell'avere sì delle basi delle basi aeree vicine al alla zona di operazioni eh sì va bene le basi sono vicine ma un conto è avere le basi vicine ma un altro conto un altro paio di mani che avere gli aerei già lì sul posto che possono decollare questa è una cosa impagabile perché poi si può comunicare la posizione delle navi ma le navi possono per motivi operativi cambiare rotta ci possono essere molte variabili che rendono gli aerei basati a terra non sufficienti a eh fornire supporto eh alla squadra a fornire copertura aerea e quant'altro ehm poi come vi ho scritto viene progressivamente messo ai margini ehm non non ebbe ruoli eh di comando durante la grande guerra alla sua alla presentazione della sua ehm lui domandò prima a Cavagnari e poi a Riccardi di essere messo in servizio avere una destinazione ma diciamo gli fu sempre sbattuta la porta in faccia eh ho letto da qualche parte che lui sarebbe stato un autore sì della porta aerei contro le corazzate non è vero eh anche lui aveva ben chiaro che le navi da battaglia erano un asset che servivano che serviva alle marine assolutamente semmai lui come tanti altri del resto e come poi eh si sviluppò la la tecnica e il lo sviluppo tecnico delle navi da battaglia premeva per navi da battaglia più veloci più protette dal punto di vista della difesa subacquea perché aveva tratto un po' i suoi insegnamenti della grande guerra e se volete un po' lo sviluppo delle navi da battaglia veloci le fast battleships una sorta di eh incrocio incrocio tra il dreadnought e l'incrociatore da battaglia di fatto è quello che avviene tutte le le navi da battaglia costruite dalla metà degli anni trenta e poi rispecchiano quella quel quel concetto e quindi questo per mettere in chiaro due cose eh andiamo avanti vedo che vi state un po' animando nei commenti mi fa piacere ora poi più tardi vedrò di recuperare ehm recuperare un po' di domande vi eh ricordo appunto Metal Mike lo riporta che ormai l'anno scorso noi facciamo una dire una live su eh la vicenda del Cesare slash Novorossisk cioè parlammo della storia del Cesare ma poi ci concentrammo sul eh sulla vicenda della nave in in mani sovietiche sul famoso affondamento perché anche di recente su YouTube erano girate varie teorie complottistiche il presunto affondamento da parte di reduci della decima masca tutto falso tutte balle smontate peraltro in un due bellissimi articoli del comandante Bagnasco su storia militare ormai diversi anni fa eh vi invito a recuperare quella live da da Mike la trovate abbastanza facilmente eh aspettate andiamo avanti quali furono i motivi eh per cui l'ho spiegato nella ehm l'ho spiegato nel video sulle porta aeree ti invito a recuperare quel video eh questa era una domanda più specifica su Bagnasco comunque dopo dirò qualcosa su sulle porta aeree allora andiamo avanti ah ecco qui ho una chicca per voi tante volte mi è capitato di vedere eh domande dove si si richiedeva qual è il numero di navi affondate dalla regio marina eh durante la seconda guerra mondiale ho messo insieme un po' i dati e ho ho realizzato questa piccola infografica che è un po' un sunto del naviglio affondato non solo dalla regia marina ma ci ho messo anche eh la regia aeronautica eh come vedete ci ho diviso per tipo di nave sparpagliate per le eh le cause di affondamento come vedete le mine un un modo eh silenzioso di condurre la guerra navale ma assolutamente importante hanno avuto il loro peso tra l'altro l'incrociatore che vedete lì è il uno dei cacciatori pediniere in quel computo sono eh si tratta del eh del Neptune e del Kandahar due d'unità navali britanniche della Force Kay che era la forza eh di unità leggere eh di spiegata di spiegata a Malta sulla fine del quarantuno che per un mesetto creò davvero scompiglio sul sulle rotte tra l'Italia e la Libia e poi finì la sua la sua carriera su un campo minato davanti a Trico. Poi ci sono diverse eh perdite inflitte da parte degli aerei gran parte aerosiluranti anche bombardieri 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 c'è anche un sommergibile che eh di cui ho messo circostanza poco chiara perché sembrerebbe stato eh sarebbe stato affondato da delle bombe sganciate da un CR-42 eh il nome dell'unità è eh dovrebbe essere eh l'HMS URG di cui non è molto chiaro se sia stato eh causa aereo causa bombe di profondità. Questa che tanti poi hanno chiesto eh affondamenti da parte di navi ci sono tre cacciatorpe di nere e quattro sommergibili eh l'ultimo sommergibile qui su circostanza poco chiara e pare eh l'HMS Rainbow eh speronato inconsapevolmente da una nave mercantile e poi altri tre battelli essenzialmente per speronamento eh e uno forse da col cannone e i tre cacciatorpe di nere si eh si tratta del Bedwin per cui ho messo contributo aereo ma eh il Bedwin il cacciatorpe di nere affondato danneggiato pesantemente da dagli incrociatori italiani della della settima divisione durante la battaglia di Pantelleria e e poi dopo mh ricevette un colpo di grazia da un aereo silurante italiano ma no o meglio eh ora vorrei fare fare confusione fu fu colpito da un aereo silurante però poi quando la la settima divisione fu eh in vista il il cacciatorpe l'altro cacciatorpe che lo stava trainando abbandonò il rimorchio quindi io tendo ad attribuire quella perdita all'intervento delle navi di superficie gli altri due sono il mohawk di cui ho sbagliato la pronuncia nel video sul tarigo affondato dal cacciatorpe di nere tarigo con il siuro e l'altro è il peikenham affondato per i danni ehm riportati da uno scontro nello scontro con eh torpediniere italiane nell'aprile del quarantatré poi ci sono mh consistenti perdite insomma mh anche famose eh dal da parte di sommergibili per dire uno eh famosi sono quelli del della battaglia di mezzo agosto eh il il pardon dovrei messi il Cairo perso durante la la silurato dall'Axum il famoso lancio di siluri che colpì l'Axum colpì il Cairo la petrolera Ohio e eh anche il il Nigeria mi pare l'altro incrociatore Nigeria o il Cleopatra allora non vorrei sbagliarmi poi ci sono il Bonaventure eh il affondato tra l'altro nei giorni di di Matapan e il Calipso affondato ehm a inizio eh a inizio conflitto mh 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 vi state scoperto mi continuate a scatenare a scatenare nei commenti ti recupererò con calma perché se no non ne arriviamo in fondo eh e poi vabbè bombe di profondità mezzi insidiosi ovviamente ho inserito il il lo York affondato a Suda eh l'Heridge eh affondato dai dalla decima mass dalla colonna che operava sulle coste egiziane e e poi ho inserito il il Manchester affondato da motosiluranti sempre nel nel contesto di me della batteria di mezzo agosto e poi un un cacciatore quindi era affondato dalle batterie costiere eh nel contesto di quel fallito tentativo di di attacco dal sbarco inglese a Tobruk nel nel nelle settimane nei mesi precedenti mi pare fosse a settembre 42 prima di di Alamain respinto come sappiamo dal dalla reazione del del reggimento San Marco e delle delle forze italiane che erano schierate a difesa di Tobruk. anche quello un giorno magari un approfondimento potrebbe eh l'operazione d'Affodil grazie eh ragazzi di WMS ehm questo questo è quanto questa questa poi la la pubblicherò la potrete scaricare ve la potrete eh godere eh andiamo avanti c'era stata una domanda sul eh se ci fossero state qui le sparviere allora come avevo detto un po' nel video sulle portaerei non è che avrebbero cambiato l'esito della guerra la presenza di di una porza addirittura due anche perché poi un'aviazione navale non si eh non si improvvisa ci vogliono anni per eh per sviluppare la tecnica addestra dei piloti e soprattutto anche sviluppare degli aerei imbarcati perché degli si è visto in vari casi che aerei concepiti per l'uso terrestre mal si adattano all'uso supporto aereo e questo penso che Mike potrà eh confermare ehm sicuramente la presenza qualora fossero state in servizio una o due unità qualora ci fosse stato una componente aerea utilizzabile specie per la protezione aerea perché eh per il si per gli aereo anche lì per gli aereo sulle aereo imbarcati ci sarebbero stati molti problemi come sappiamo per la protezione aerea della squadra quello sarebbe stato una cosa molto utile perché sarebbe tornata utile in occasioni come eh l'operazione Gaudo quindi la puntata italiana in 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 Egeo e a sud di Creta che poi si sarebbe stata solo a sud di Creta dove poi ci sarebbe stato il tragico epilogo a Matapan lì sicuramente una copertura aerea della squadra avrebbe potuto prevenire la eh l'attacco degli aerosiluranti e quindi evitare tutta la 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 tragedia che sappiamo in altri casi pure di penso al danneggiamento dei del del Vittorio durante mezzo giugno l'affondamento del Trento durante mezzo giugno eh il Trento fu colpito da aerosilurante e poi finito da un sommergibile probabilmente eh scacciare l'attacco aerosilurante avrebbe forse salvato eh la nave dall'immobilizzazione e poi dal dalla dall'esecuzione da parte del sommergibile britannico ehm Mike ci ricorda dei dei reggiani duemilauno che dovevano essere eh teoria imbarcati sulla sulla porta aerea Aquila per cui si era anche concepito quel sistema per agganciarli al al soffitto dell'hangar per fare spazio perché anche lì devi avere un aereo in teoria con le agli ripiegabili per per fare spazio quindi insomma ci sono tanti problemi tecnici che che sarebbero soliti quindi un'aviazione navale non non si improvvisa eh nel giro di poco tempo eh eh poi vabbè ho portato l'esempio perché qualcuno spesso me l'ha lasciata la quasi porta aerea la povera eh Giuseppe Miraglia eh cioè la nave porta ed il volante Giuseppe Miraglia eh era un mh una nave che non poteva eh ovviamente accompagnare la squadra perché aveva una velocità limitata faceva poco più di venti 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 tre nodi proprio se venti tre nodi non ci arrivava qualcuno nella chat poterà eh confermare eh poteva teoricamente utile per pattugliamento marittimo di zone a eh bassa intensità di area bassa intensità bellica detto questo non poteva certo eh il mira il povero Miraglia a accompagnare la squadra un'altra domanda sull'annosa questione della precisione dei grossi calibri ora tutte le risposte le ha date l'ammiraglio Santarini nella live dedicata al tiro navale dell'energia marina che abbiamo fatto l'anno scorso una live lunga eh però tuttora la live più vista sul canale quindi devo dire che avete apprezzato eh un po' di punti sulla questione della dispersione della dispersione della precisione dei grossi calibri allora telegraficamente la regia marina aveva conosceva il problema della dispersione da molto tempo l'ammiraglio Santarini citava di documenti risalenti alla la grande guerra eh l'ammiraglio Iachino di racconta di come ehm i cannoni delle navi austro-ungariche catturate che sparavano munizionamento austro-ungarico avevano una dispersione contenuta ma quando utilizzavano a munizionamento italiano la dispersione aumentava eh nel 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 quaranta ai primi del quaranta ci fu una una commissione in cui faceva parte anche l'ammiraglio Bergamini che affrontò avevano eh osservato questo problema della dispersione sui calibri ehm da trecentoventi eh fino a giù fino a centoventi ora non mi ricordo se eh no non c'erano i novanta millimetri non c'entravano dai erano questi qui che vi ho citato e avevano osservato il delle dispersioni anche che erano aumentate nel negli anni di addestramento e loro all'epoca imputarono questo problema della dispersione a eh errori eh problemi legati alla punteria cosa vuol dire? Gli orologi di punteria eh l'aschine di trasmissione eh che riportavano il movimento dei cannoni ehm cintra di tiro movimento dei cannoni imputarono il problema a questo in realtà il l'altro problema citato da tanta letteratura della qualità delle cariche di lancio parrebbe un po' un mito diciamo da non prendere per buono eh poi c'è da ricordare un'altra cosa che come vedete questa commissione affrontò il problema osservato sui eh calibri da trecentoventi in giù e ehm non furono considerati i trecentottantuno perché in quel quella fase ancora non erano operative le le due navi da battaglia Vittorio Veneto e Littorio successivamente poi dobbiamo ricordarci che i trecentottantuno spararono in quattro occasioni in tre occasioni il tiro fu ehm fu effettuato a distanze superiori dei ventitremila metri tra i ventitremila e i venticinquemila Gaudo eh oltre i ventisette ventottomila Capoteulada oltre trentamila prima Sirte e quelle non sono distanze ritenute ottimali per per il tiro quindi è difficile aspettarsi dei colpi a segno a quelle distanze eh quindi non non diciamo non sono statisticamente non sono statisticamente rilevanti però dei dei danni da Nermis furono fatti a questo va va ricordato la quarta occasione la seconda Sirte le distanze erano molto più brevi si scese fino a sette sette mila metri però le condizioni del mare della visibilità eh pioggia erano terribili e mh il littorio anzi bucherellò diverse ehm nave britanniche con Nermis colpi che erano passati attraverso eh le navi britanniche insomma il littorio fece il suo bel diavolo a quattro in quella situazione e lì Iachino portò la nave molto vicino ai cacciatori pediniere eh britannici cioè mh un'azione io dico sempre un'azione da 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 valutare per me positivamente da da scoprire che è una battaglia abbastanza poco conosciuta nel nel tra il grande pubblico ehm tornando alla alla questione della della precisione l'ammiraglio Santarini diceva che comunque guardando le tavole di tiro di questi cannoni avevano una dispersione che risultava ehm superiore a quella dei dei 381 britannici e dei 356 britannici quindi lui ha fatto vari studi e lui è arrivato alla conclusione che noi avevamo questa dispersione era causata da un da proiettili sovrastabilizzati che avevano una traiettoria molto stabile che però più aumentava la distanza di tiro più le forze aerodinamiche compromettevano eh diciamo la rosa dove andavano a cadere i colpi era l'ammiraglio forse mi mi redarguirà per per i termini che sto usando ma cerco di renderla più semplice possibile e quindi si si aveva questa questa dispersione però ancora ehm i i i casi in cui hanno sparato l'elettorio non sono a mio avviso statisticamente rilevanti per dire che quei cannoni non colpivano erano specifici perché vanno visti singoli scontri le le situazioni eh in cui eh in cui ha parlato molto meglio di me di di questo di questo tema eh c'è stata una domanda su instagram relativo in generale su sui cacciatori pediniere cioè il ruolo il come come ruoli compiti che venivano dati i cacciatori pediniere allora nascono a fine il concetto nasce lo dice la parola stessa eh come eh mezzo per controbattere alle torpediniere che iniziarono a essere costruite a fine ottocento e quindi la necessità di trovare una eh una un mezzo che potesse eh proteggere le altre navi maggiori unità maggiori dall'inizio della caccia torpediniere quindi caccia torpediniere in inglese sappiamo che si dice destroyer ma all'inizio esisteva il termine torpedo boat destroyer quindi semplificato poi mh cerco di ehm di limitarmi al alla regia marina e al periodo che va abbraccia le due guerre ehm nella regia marina esisteva questa distinzione tra cacciatori pediniere ed esploratori gli esploratori erano se volete dei cacciatori pediniere un po' più grossi poi anche lì ci furono durante la grande guerra eh dove furono eh costruite queste unità eh gli esploratori parlo i primi esploratori variavano anche lì eh di tonnellaggio il ruolo come vi ho detto del cacciatore pediniere è quello di scorta a le squadre scorta le unità maggiori scusate e eh effettuare attacco silurante in varie eh varie situazioni anche in in situazioni notturne eh perché la regia marina per quanto riguarda l'annoso problema del combattimento notturno prevedeva l'utilizzo di eh del torpediniere decaccia torpediniere in combattimento notturno all'attacco col siluro eh ovviamente la visibilità era un problema non avevamo le ottiche per condurre il tiro non avevamo i il tiro notturno dico eh i telemetri non erano in grado di misurare bene le distanze quindi ci sono molti problemi legati al tiro notturno altro altro tema che potrei approfondire eh non c'erano i eh munizionamento a vampa ridotta eh furono installati degli obici per il tiro illuminante sui cacciatore pediniere ma non furono molto utili infatti furono sbarcati eh e sostituiti con armi per il tiro contro aereo venti millimetri trentasette millimetri. Tornando al discorso cacciatore pediniere ed esploratori diciamo tra negli anni venti e trenta si si sviluppa questa eh questa un po' distinzione vengono fatti cacciatore pediniere però poi vengono fatti eh cacciatore pediniere più grossi qualcuno li chiama eh destroyer flottilla leaders eh scout cruiser se vogliamo qualcuno però vediamo che si sviluppano cacciatore pediniere sempre più grossi che poi arriveranno a definire il cacciatore pediniere diciamo eh tipo della Josnevi del pensiamo ai fletcher grossi cacciatore pediniere che noi probabilmente avremmo etichettato come esploratori o penso ai ai tribal che il mio amico Alex Clark ha definito pocket cruiser cioè incrociatori tascabili eh ha scritto un libro sul sui tribal sull'evoluzione del dei 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 cacciatore pediniere e l'arrivo fino al cacciatore pediniere moderno ehm c'è da dire una cosa sui nostri cacciatore pediniere che appunto sulla scorta del del dell'esperienza della grande guerra privilegiare privilegiarono moltissimo doti di velocità per per poi effettuare attacchi no rapidi mordi e fuggi col siluro eh anche anche di notte ehm questo insomma ebbe diversi eh crea un po' di problemi perché per raggiungere certe velocità furono fatti certi tipi di scafi questi scafi sappiamo tutte le prime ehm classi di cacciatore pediniere eh del degli anni venti e trenta fino ai fino fino ai fino ai freccia folgore inclusi quelle nave avevano problemi di di stabilità a tenuta del mare e dovettero dovettero subire un po' di lavori un po' di di riarrangiamenti per limitare questi questi problemi e poi dopo dai dagli oriani e maestrale soldati questo problema fu un po' risolto però comunque eh ci furono casi come la perdita per dire del lanciere del lo scirocco che per via di anche avarie alle macchine furono persi per condizioni del mare estremamente eh critiche quindi avevano un problema di di tenuta nel del mare e mentre invece possiamo possiamo dire i i famosi classe navigatori le dodici unità della classe navigatori nati come esploratori ehm meglio nati come cacciatore pediniere poi esploratori poi di nuovo cacciatore pediniere ehm si rileverano delle navi interessanti che sì dopo le modifiche non potevano raggiungere più di 28 nodi quindi avevano una limitazione nel servizio di squadra ma furono perfetti per il servizio di di scorta a mh ai convogli infatti si si dissanguarono nella lotta eh per la difesa dei convogli eh un'altra cosa importante da dire e per cui vi rimando anche a questa fantastica monografia del comandante Bagnasco su eh cacciatore pediniere classe soldati che trovate ancora abbastanza facilmente perché è di due anni fa eh i cacciatore pedini italiani avevano un problema un problema di autonomia di apparati motori perché avevano un'autonomia inferiore a mh coeve classi ehm tipo i gerbis parlo dei soldati nell'analisi che fa Bagnasco ehm lui li compara ai Benson americani e ai gerbis britannici dove mostra che c'era una eh un'autonomia inferiore questo era dovuto questo era un'autonomia inferiore tra l'altro a un ehm una dotazione di combustibile simile ok perché c'era un consumo superiore delle delle nostre calda e consumavano troppo e questo ovviamente creava dei problemi di autonomia e poi molte unità ebbero a subire di eh problemi noi all'apparato motore durante la guerra quindi sicuramente c'era questo fattore che che limitava molto infatti ehm non si potevano concepire operazioni a lungo raggio oltre una certa ehm una certa distanza per dire l'operazione che portò poi a Matapan eh si spinse fino alle acque a sud di Creta e quello era davvero il limite dell'autonomia dei caccia torpediniere che ovviamente dovevano andare lenti per gran parte a lento moto per gran parte della navigazione e poi ovviamente per ehm cambi di formazione in momenti in cui si ingaggiava il nemico dovevano aumentare la velocità e quei momenti c'era un consumo altissimo di di nafta e di acqua per caldaio e quindi questo era un fattore che andava tenuto molto in considerazione i fenomeni da baraccone che parlano di incredibili azioni che si sarebbero dovute fare per bombardare la costa egiziana bombardare ehm Alessandria Gibilterra non non erano fattibili perché i cacciatori piani non ci potevano arrivare scortando la la squadra e quindi non di cosa parliamo quindi c'era questo problema che si poneva non si poneva per la la scorta con vogli perché lì le unità andavano a al passo più lento dei delle navi mercantili e quindi non c'era questo consumo che c'era nella scorta delle delle unità della squadra navi da battaglia incrociatori quindi questo spero di avervi detto tutto quello che vi volevo dire sui cacciatori pediniere e qui continua il dibattito mi fa sì ma è che attacchi ho letto anche questo attacchi con la flotta ad Alessandria Gibilterra non è letto di tutti i colori dall'altro una cosa su matapan che su cui facciamo una live l'anno scorso e su cui ci sarà qualcosa di nuovo a un certo punto forse quest'anno o l'anno prossimo inizio dell'anno prossimo ehm uno dei il discorso dell'autonomia dei cacciatori pediniere ebbe un ruolo in alcune delle scelte che furono fatte ehm specie anche dall'ammiraglio cattaneo nel tornare indietro a soccorrere il pola in quella live su matapan ne abbiamo parlato quindi vi invito a recuperarla poi ci sarà modo per riapprofondire la questione qui un un argomento molto molto corposo che vi confesso ho iniziato a studiare solo di recente eh cioè ad approfondire solo di recente ne avevo letto ehm ne avevo letto in passato però abbastanza superficialmente ho riapprofondito solo in in di recente quello del radar del del radar del radar italiano e quindi del mancato sviluppo in tempo di apparati radar che avrebbero permesso di eh condurre la guerra specie per quanto riguarda le operazioni notturne in maniera differente no ci sappiamo tutti matapan matapan convoglio duisburg chi ne ha più ne ha più ne metta capo bon citare alcuni casi eh anche qui mh qui sicuramente meriterà fare un approfondimento video live perché è una questione davvero molto interessante e che eh merita più di questa slide in cui cercherò di eh di eh di di riassumere sì ragazzi qui si rischia di fare di fare nottata se cominci a discutere nel buco assolutamente eh cercherò di farla breve allora Marconi già negli anni venti teorizzò la 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 possibilità di ehm radiolocalizzare eh cose in movimento ok e ehm tra il 33 e il 35 fece del degli esperimenti dove di fatto eh si dimostrava che eh l'irradiazione delle delle onde elettromagnetiche e la possibilità di eh localizzare eh degli elementi in movimento tra l'altro la storia del del che lì fantasiosa del raggio della morte cioè era dovuta a quello era il rad era questi esperimenti ma che non avevano nulla a che fare con un'arma segreta particolare. nel 36 eh poi sappiamo Marconi morirà di lì a breve nel 37 eh nel 36 viene ehm decisa la prosecuzione degli studi su questo apparecchio che avrebbe dovuto eh effettuare la localizzazione e la misurazione delle distanze eh attraverso ehm onde elettromagnetiche appunto radio telemetro cioè la concezione era di un apparecchio anche per misurare in primis. Eh fu scelto di affidare la prosecuzione degli studi all'ingegner Tiberio, ingegnero di Tiberio e lui fu inviato a marine elettro che è eh l'acronimo per l'istituto di elettromeccanica e delle telecomunicazioni a Livorno che aveva sede anche 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 marine elettro nelle nelle nei quartieri della dell'Accademia eh navale di Livorno. Poi Tiberio insegnerà anche eh l'Accademia navale un po' imbarcamenandosi. in sostanza viene viene scelto di ehm fare gli studi su quel sul radar chiamiamolo radar per semplicità viene scelto di fare questi eh studi e vengono ehm studiate due opzioni la due vie diciamo la il radar per modulazione di frequenza o il radar a impulsi. ora la sto semplificando un esperto di elettrotecnica magari ne avrà che ridire ma eh cerco di 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 semplificarla al massimo. Tiberio iniziò a lavorare su quella a modulazione di frequenza o onda continua se vogliamo e che però si sarebbe rilevata rilevata rivelata pardon la via sbagliata perché quella giusta in virgolette era quella di impulsi. nel 37 eh arriva ah scusate e già nel 36 viene testato questo il primo apparecchio che vedete nella foto in alto l'EC1 che era un apparecchio eh ad impulsi eh no pardon era un apparecchio a modulazione di frequenza che non dette eh i risultati eh sperati. nel 37 eh arriva quest'altra figura ehm abbastanza importante in questa storia che il capitano Alfeo Brandimarte che inizia a collaborare con Tibero e lui avrebbe dovuto costruire la eh il prototipo che funzionava ad impulsi. ci furono un po' di problemi lui fu uno delle vittime della legge sugli scapoli per cui essendo scapolo gli veniva preclusa la carriera eh e quindi mh nel 37 si lui iniziò a lavorare sugli schemi del dell'apparata di impulsi ma poi eh se ne andò nel nel civile perché lui poi non era 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 di complemento decise di di andare nel 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 lavorare nel civile. Poi eh cosa succede? Nel 39 inizia effettivamente la costruzione dell'apparata di impulsi che era un po' rimasto lì incompiuto ehm e viene collaudato eh viene collaudato però non sì non era ancora molto promettente viene chiesto al ehm alla ditta Safar di 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 abbiarne la produzione però anche lì lì ci si scontra con le molte limitazioni di carattere industriale e tecnologico che c'erano in Italia perché l'Italia ricordiamoci non era una potenza industriale al pari delle altre potenze europee eh non c'erano eh molte ditte che si occupavano di queste questioni non c'erano per dirne un'altra un un pool di scienziati che lavoravano un pool vasto pool di scienziati che lavoravano su questi temi anche lo stesso Tiberio fa l'istituto e Marinetta facevano fatica a trovare le persone lavorare a questa a questa a questo progetto quindi diciamo l'Italia non era un ehm elettrotecnica perdona non eh elettromeccanica eh correzione di Bartemma ehm si faceva fatica a trovare queste persone perché l'Italia non era il posto ideale per sviluppare questo poi c'era un altro un altro tema interessante è quello dei eh la diffusione dei radioamatori cioè la diffusione dei radioamatori in America creò eh una situazione per cui tanti piccoli problemi furono risolti dalla massa di persone che aveva a che fare con questi apparecchi ehm e che venivano risolti attraverso il processo trial and error no? Cioè provi mh provi un'altra cosa eccetera. In Italia questo ma anche in altri paesi era era vietato perché ovviamente si voleva impedire di impedire la diffusione di radio clandestine e cose simili e quindi non ci fu questo apporto se vogliamo dal dai dai privati cittadini eh non c'erano laboratori in università dove si potevano testare insomma una serie di limitazioni del mondo scientifico del mondo industriale che anche sul lato della produzione di massa di questi apparecchi mh hm dibek. Dicevano sixti devono molto sistemevano molti problemi infatti anche quando poi si arrivò alla costruzione dei dei ehm dei gufo non si arrivò mai una produzione sufficiente alla necessità quindi c'erano anche queste imitazioni. È un po' ingiusto dire che eh come è stato scritto detto da alcuni che la regione marina non capì la cosa cioè la regione marina investì in questa cosa non fermò gli studi furono portati avanti sicuramente in un panorama dove mancavano sempre i fondi per carità, cioè sappiamo mancavano i fondi per costruire le navi mancavano le maestranze per costruire le navi e mancavano anche per sviluppare questi apparecchi, quindi era un po' l'ambiente generale, il contesto generale che non favoriva lo sviluppo di questi apparati qualche altra tappa nel febbraio del 41, cioè questo questo episodio che mi piace ricordare febbraio del 41 l'ammiraglio Iachino rifiuta la proposta del comandante Tazzari di imbarcare i tre prototipi navali dell'EC1 ed EC2 che erano funzionavano su modellazione di frequenza ed EC3 ad impulsi che era quello che avrebbe dovuto funzionare quello giusto diciamo tra virgolette che però non aveva dato esiti molto positivi in più mancava la formazione del personale insomma mancavano tante cose per cui Iachino rifiutò l'imbarco di questi di questi apparecchi perché non sembravano aggeggi che avrebbero fornito intanto funzionanti perché poi anche lì quando sviluppi il radar poi devi l'EC1 il primo EC1 non era un apparecchio imbarcabile dovevi creare una versione imbarcabile in più dovevi anche risolvere il problema del brandeggio perché sappiamo il radar deve girare per girare ha bisogno di un motore un traliccio se vogliamo e questi comportano spazio pesi che su una nave hanno una loro importanza perché pesi troppo in alto creano problemi di stabilità gli spazi sono quelli che sono quindi ci sono un sacco di problemi gli spazi anche del motore per far girare l'antenna vanno presi in considerazione infatti i gufo perché verranno montati anche quelli che vedete in foto verranno montati in posizione fissa o brandeggiabile quello in alto solo per no scusa in posizione fissa e brandeggiabile nel caso del mi viene in mente sui incrociatori capitani romani solo per movimento dei telemetri dei telemetri delle SDT quindi anche lì un sacco di limitazioni di problemi tecnici da risolvere che non possono essere banalizzati poi dopo lo sappiamo c'è c'è una tapan tutti i problemi che sappiamo la e si e si tornò da Tiberio a Marine Electro e dire ci serve questa questa che voi sviluppiate questa che funzioni e in aprile ci fu il primo test il primo vero test soddisfacente dell'ecitria di impulsi poi in quell'estate l'apparato fu imbarcato sul littorio però anche lì c'erano problemi legati al fatto che l'operatore non riusciva a distinguere bene gli echi in mare perché poi ovviamente un conto è testarlo sul tetto di un palazzo un conto è testarlo in mare insomma tutta una serie di problemi tecnici non banali settembre del 42 il l'ecitria ter gufo quello che cominciamo il gufo viene imbarcato diventa operativo ma come ho detto solo in posizione fissa quindi per tagliarla corta la marina non è che osteggiò questo progetto fu vittima come tante altre cose del del contesto scientifico il contesto industriale della mancanza di fondi di tanti problemi ma anche di conoscenze che non c'erano in Italia perché era non c'era anche lì su questo tema le notizie a livello europeo internazionale non circolavano molto perché era un tema molto sensibile si era capita la potenzialità altrove quindi non c'era se vogliamo un peer exchange come ci può essere oggi quindi tanti tanti temi che vanno presi in considerazione vedo di tagliarla corta perché se no qui facciamo notte e poi mi piacerebbe approfondirlo meglio anche io questo questo tema c'era una domanda sul genesi degli aerosiluranti quindi un pochino più aeronautica e brevemente si iniziò molto presto perché già nel durante la grande guerra ci furono primi test qui infatti vediamo un bombardiere caproni che testa il lancio dei siluri ci fu ovviamente la questione dei siluri fu anche un po' presa nel mezzo dalla le varie diatribe che sappiamo tra aeronautica e marina però ci fu soprattutto l'avversione anche dell'aeronautica a questo questo sistema d'arma montato sugli aerei lo sappiamo l'aeronautica seguiva perseguì la strada del bombardamento in quota comunque aveva si vide poi nell'esperienza bellica aveva le sue limitazioni furono fatti però test sia con l'S-55 e anche con l'S-81 e nel 37 ci fu lo sviluppo di un nuovo siluro per aereo che avrebbe sarebbe poi stato quel footprint del 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 siluro navale impiegato durante la guerra tra l'altro ricordo di aver letto in un libro di Giorgerini di questo scambio molto interessante tra c'erano Mussolini Cavagnari e non un capo di stato maggiore non non valle ma un altro rappresentante dell'aeronautica che non mi ricordo il cognome che di fronte alla notizia che i tedeschi avevano ordinato una cospicua partita di siluri da aereo allo stabilimento Whitehead di fiume Mussolini chiedeva ma i tedeschi hanno fatto questo ordine ma noi perché non ci abbiamo questa cosa e l'esponente dell'aeronautica avrebbe risposto perché il mio capo la mia forza armata non credono in questo in questo tipo di arma e da lì insomma la cosa creò un po' di imbarazzi si iniziò poi a trattenere alcuni dei siluri della partita tedesca furono trattenuti e poi si arrivò all'agosto del 40 con le prime poche unità operative e poi nell'ottobre del 40 fu costituito il primo nucleo operativo e poi ho trovato una una curiosa un curioso episodio di cui non conoscevo l'esistenza ovvero che nell'agosto del 40 ho preso questa dal diario del comando supremo alla riportata la data del 16 agosto del 40 ho effettuato un attacco sul porto di Alessandra d'Egitto dove vedete notte sul 15 3S81 hanno bombardato e colpito la linea ferrovia tra Fuca e Marzamatou sempre il 15 7S79 dalla Libia hanno bombardato gli impianti del porto di Alessandria successivamente 5 apparecchi siluranti hanno attaccato le navi in porto l'attacco non andò a buon fine i siluri si ho letto che si incagliarono nel basso fondale però ho fatto questo attacco forse i siluri che si in Amistano nel basso fondale fece pensare che Taranto era salva probabile potrebbe essere sappiamo che in quell'estate ci furono gli attacchi contro i porti libici degli aerosiluranti britannici che colpirono dei cacciatorpedini in porto sarebbero potuti essere campanelli d'allarme sì e no perché comunque attacchi condotti di giorno Taranto le cose andarono un po' diversamente che lì ne abbiamo parlato una notte di Alessandria antelittera sì forse anche perché sempre nell'agosto c'è la missione dell'iride con i primi slc che dovevano attaccare Alessandria quindi questo c'era poi una domanda su il Garibaldi armato con missili Polaris se avrebbe potuto fare dell'Italia una potenza regionale beh questo è un bel discorso perché capito vi ho messo un po' di date per ricostruire la vicenda Garibaldi fu avviato ai lavori e uscì dai lavori nel 61 in quel periodo nacque l'idea di una di una forza navale nato una forza navale di superficie con dotata di deterrente strategico quindi missili balistici contestate nucleari si amava la multilateral force pardon l'idea poi ai primi primissimi anni sessanta svanì però quando quell'idea era insomma si dibatteva in ambito nato fu deciso di installare sui Garibaldi dei pozzi per il lancio di missili balistici sappiamo poi che il Garibaldi andò negli Stati Uniti si omologò per il lancio dei missili terrile e poi però si omologò anche per il lancio dei missili Polaris infatti qui questa però se non sbaglio è fotografata nel golfo della Spezia qui il Garibaldi nella foto grande lancia un missile terrier per funzionanti aerea mentre nella foto di destra lancia un simulacro del missile Polaris come ho detto l'idea di questa di questa forza nato sfumò per varie ragioni c'era stata la la crisi di Cuba si si voleva anche un po' limitare la proliferazione delle armi nucleari infatti poi ci sarà il trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari negli anni sessanta ma poi ci fu anche il fatto che nel sessanta 59-60 entra in limina il primo sottomarino nucleare dotato di missili balistici il George Washington quindi l'idea di della deterrenza strategica in mare fu diciamo relegata all'arma subacqua gli Stati Uniti avevano fatto avevano studiato sicuramente non mi ricordo se avevano anche testato il lancio sull'installazione di pozzi sul Long Beach però insomma anche loro poi si si dedicarono interamente all'arma subacqua per quanto riguarda la deterrenza strategica restava che il Garibaldi aveva questi pozzi e da lì poi nacque quella è una storia interessante che non voglio trattare la voglio solo accennare perché gente molto più esperta di me ha parlato di questo del programma italiano per la deterrenza nucleare cioè lo sviluppo di armi il programma nucleare italiano e poi il programma per il missile italiano l'Alfa che deve essere il Polaris italiano che è il vettore per le testate un programma una storia molto interessante che vi invito a studiare approfondire tra l'altro l'Italia prese un po' di tempo infatti se il trattato sulla non proliferazione mi pare che sia del 68 69 l'Italia aspetterà fino al 75 di provarlo perché negli anni i primi anni 70 ci furono tutti i lavori i test sul sul missile Alfa di cui un simulacro cioè una replica si può vedere al museo dell'aeronautica a vigna di valle quindi storia molto interessante se fosse portato tutto a termine sì l'Italia avrebbe potuto avere un incrociatore lanciamissili balistici tra l'altro poi in questa live sulla marina della guerra fredda anche lì l'ammiraglio Santarini ne aveva parlato molto meglio di quanto ho fatto io adesso in due minuti di questa storia questa è una foto dei pozzi del Garibaldi c'erano altre domande cui non ho voluto diciamo approfondire troppo perché Marina la guerra di liberazione che questo è un argomento che vorrei affrontare in una live più in là magari verso aprile dell'anno prossimo e vi metterò in descrizione un un link a due pubblicazioni uno della Marina e uno dell'ufficio storico della Marina e uno del stato maggiore della difesa sulla guerra di liberazione tutto sulla Marina e l'altro su le forze armate italiane operazione navale del Dodecanneso c'era una domanda probabilmente prossimamente potrò parlare anche della riconquista di Castelrosso episodio molto interessante domande un po' da non so in ottica non lo so di spirito videoludico migliore classe di incrociatori nave più incastatrice cioè migliore classe di incrociatori bisogna sempre dire rispetto a che cosa si può misurare la corazzatura e il calibro però bisogna sempre pensare cosa vuoi farci con quella con quella nave quindi una domanda molto relativa che lascia molti spazi di interpretazione nave incassatrice anche lì ci sono nella seconda guerra mondiale ci sono molte navi che hanno subito danni l'elittorio hanno preso hanno preso un sacco di siluri bombe e se la sono sempre cavata bene il Garibaldi il ora vado vado a memoria lo scipione africano insomma non mi ricordo quale uno dei dei capitani romani furono vittime di lanci di siluri di sommergibili britannici che li asportarono solamente la prua e comunque essendo navi molto solide molto incassatrici se vogliamo riuscirono a tornare in porto tranquillamente senza la prua e e videro la prua ricostruita quindi anche lì ci sono un sacco di esempi che potrebbero potrebbero calzare beh ecco sicuramente non i giussano e che adorna ecco quello mi sento dire quelli non erano della mincassatrici allora detto questo sono finite le domande che avevo selezionato ora vedo magari di recuperarne qualcuna dalla chat se avete domande al volo fatele così magari le vedo anche anche più facilmente perché recuperarvi tutto visto che avete animato molto la barra dei commenti ragazzi di World Meme Squad Italia c'è nel CT Carabinieri è un grande nave che ha avuto insomma un'epopea molto interessante anche la storia della navigazione nell'oceano indiano quando si presenta la Royal Navy per possibile coinveggimento nell'addestramento per gli aerosiluranti insomma una storia anche quella molto interessante da trattare in un approfondimento sulla marina nella guerra di liberazione corto qualcuno che è stato a Vigna di Valle e che non si è accorto dell'alpha a proposito del Garivaldi perché non fu preservato ho letto che ci fu effettivamente la tentativo di renderlo trasformato in una nave museo ma anche lì i soliti problemi di bilancio altrimenti siamo negli anni settanta gli anni in cui la marina riuscì a ottenere una legge navale che avrebbe permesso alla marina di continuare ad esistere perché l'invecchiamento del naviglio l'obsolescenza del naviglio era arrivato a un punto tale che urgeva una una legge navale quindi degli stanziamenti eccezionali per l'impostazione di nuove navi evidentemente anche lì per questioni di bilancio fu scelto di non preservarlo il Tarigo del Tarigo ho parlato ho fatto un video sulla battaglia del convoglio Tarigo vicenda molto interessante per i risvolti di intelligence perché ve la butto lì la regia marina pece delle immersioni sul relitto del Mohawk affondato dal Tarigo per recuperare documenti segreti e recuperarono del materiale tra cui le mappe dei campi minati davanti ad Alessandro d'Egitto quindi vi lascio immaginare per cosa sono state usate quelle mappe allora ci saranno altre live come quella su Punta Stilo che si può realizzare su un'unica battaglia sì di progetti ce ne sono tanti però il tempo è tiranno però piano piano magari anche qualche video visto che ho iniziato a fare diverse mappe come quelle che avete visto nel video su parte 2 sull'editorio le mappe che abbiamo mostrato nelle varie live Mediterraneo 42 Mediterraneo 43 9 settembre eccetera c'è la volontà di coprire anche battaglie specifiche con mappe il più accurate possibile anche perché non si trovano se googolate battaglia XY raramente trovate mappe in alta definizione o cose più recenti sull'indagine dei siluri difettosi fabbricati a Bahia ahimè ho letto anche io della cosa ma non l'ho approfondita quindi non parlo di cose che non conosco per citare un film riguardo la live sui sommergibili hai detto che molti sommergibili sono stati affondati da sommergibili e con quell'armamento vengono combattuti questi scontri allora qualcuno fu perduto principalmente per offesa da Siluro quindi immagina sommergibile austriaco immerso ha visto un sommergibile italiano lancia il Siluro colpisce e affonda non mi pare che ci furono nella grande guerra casi di battelli che affondarono battelli con il cannone parlo dell'adriatico nella seconda guerra mondiale c'è il caso epico del Toti che si incrocia con il Triad l'HMS Triad si scambiano cannonate c'è la storia mitica di un marinaio che lancia la scarpa contro il sommergibile avversario che passarono molto vicino l'uno degli altri e poi il Toti riuscì ad affondare il Triad con un Siluro lanciato dal lancio Siluro di Poppiero vediamo ah scusa Marco che ha fatto la domanda su altri live come quella di Punta Stilo ne approfitto per dire una cosa e vi condivido lo schermo port non allora voglio dire una cosa in qualche live abbiamo citato la rivista marittima allora la rivista marittima è una pubblicazione fantastica che vi permette di la vedete si si la vedete aumento ok ora lo vedete meglio la rivista marittima dicevo è una pubblicazione della marina che liberamente ci si può abbonare per ricevere un costo bassissimo per ricevere l'edizione cartacea però qui sul sito della marina trovate anche i numeri pubblicati in forma digitale e dentro trovate molti articoli scritti da esperti temi di attualità discussioni su sistemi d'arma nell'uno degli ultimi numeri c'è un focus sui sistemi missilistici c'è un bellissimo articolo dell'ammiraglio Santarini sulla difesa antimissile la prossima settimana credo martedì uscirà il prossimo numero e ci sarà qualche contenuto interessante per quanto riguarda Punta Stilo quindi vi invito a monitorare il sito della marina la prossima settimana a questo punto colgo per visto che siete avidi di informazioni ricordarvi anche che oltre alla rivista marittima esiste anche il bollettino d'archivio dell'ufficio storico anche qui che potete recuperare su non fate caso alla datazione perché sono indietro rispetto alla data in cui siamo oggi però ci sono qui vedete potete recuperare i numeri pubblicati anche qui ci sono degli approfondimenti di natura prettamente storica e foto insomma un'opera con un altro storico contenuti molto ben curati e ve la consiglio insomma sono qui liberamente consultabili potete trovare una miniera di informazioni detto questo vediamo è vero che non mi risulta non mi risulta anche perché non esistevano in Italia dei cannoni di quel calibro si pensò di installare i 406 perché era il calibro massimo previsto dai trattati però non esistevano in Italia i 406 si optò per i 381 si trova in varie pubblicazioni scritto che si optò per i 381 perché c'era stata l'esperienza sui 381-40 però l'ammirale Santarini mi direbbe che i 381-40 e i 381-50 erano delle armi molto diverse quindi lasciamo un po' in sospeso però i 356 non ho letto mai nulla un approfondimento sulla panteria di Marina beh bel suggerimento perché no perché no oddio questo secondo me avevamo italiani che rimavano contro lo sapevi se ti riferisci a traditori e cose sono tutte balle ampiamente smentite dalla storiografia quindi ti invito ad aggiornarti ciao Marco sei entrato nel momento perfetto vediamo un po' più su qui vedo avete fatto un bel dibattito lungo magari vediamo all'inizio se c'era qualche domanda se ne avete fatela adesso siamo già quasi un'ora e mezzo non vorrei tirarla troppo per le lunghe perché vorrei vorrei che questa fosse una una live molto fruibile allora conosco questo autore conosco so che lui ha fatto una serie di libri non solo uno su Betasom non li ho letti sicuramente al merito di parlare di questioni italiane in lingua inglese però non li ho mai letti quindi non ti so dire non ti so dare la mia opinione però esistono sì c'è questo autore che credo sia polacco non vorrei dire una bestialità che ha scritto una serie di libri su mi ricordo uno su Betasom ma ne ha scritto anche credo uno sull'Armir quindi lo vedremo raccontaci anche del Casamatta festival allora per chi non lo sapesse c'è stato a settembre il primo festival letterario di storia militare non in Italia ma nella penisola italiana diciamo perché ha avuto luogo a San Marino ne ha parlato Mirko di Parabello ne ha parlato anche Mike in una live è stata una bella iniziativa nata dall'idea del storico amico Andrea Sant'Angelo che è venuto ospite del canale per le live Mediterraneo 42 e 43 bella edizione in una cornice molto bella quella di San Marino che è davvero un posto molto interessante mi è piaciuto si è parlato di tante cose il successo c'è stato e ci sarà un'altra edizione è stato bello anche perché c'è stata l'occasione l'avete visto l'ho postato nella sezione community la foto di tutti gli youtuber c'ero io c'era Mirko c'era Metal Mike c'era Luca al Sabag c'era Zack il mitico Giovanni Cecini spero di non aver dimenticato nessuno non solo youtuber anche ospiti di Mirko analisti come Andrea Caspardo insomma è stata anche una bella occasione per vedersi dal vivo e non rimanere legati alla dimensione digitale quindi sappiatelo che il Casamatta Bookfest esiste e lotta insieme a noi vediamo un po' ti risulta ti risulta che parti dell'unica battaglia fossero state costruite negli stabilimenti con non saprei mi 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 suona tutto molto nuovo magari sono un errore io questo sulle portali abbiamo detto soluzione alla 104 no scusate sto recuperando i commenti credi che se non affondava no vabbè questa mi sembra un po' un'esagerazione credi che se non affondava il con voglio Tarigo nell'aprile il 42 potevano vincere una no assolutamente non è che cambiava la guerra il con voglio Tarigo portava elementi della mi pare quindicesima panzer divisione ma quella fase non si era nemmeno aprile 41 non si era ancora giunti davanti a Tobruk e quindi si perdite ma non cambiava l'estero della guerra assolutamente il problema della logistica rimaneva perché tu puoi far affluire tutte le risorse che vuoi e la marina lo sappiamo portò delle percentuali alte di uomini e di materiali sulle coste nordafricane ma poi rimaneva il fatto che le dovevi scaricare a Tripoli qualche volta a Benghazi e poi dovevi trasportarle in prossimità del fronte in prossimità dei depositi dovevi consumare carburante per trasportarli c'era sempre penura di veicoli ci voleva e per non parlare di quando il fronte è stato portato fino ad la main io vi invito a anzi già che ci siamo vi faccio vedere la mappona per ricordare la la scala del delle distanze allora questa è la mappona che vi ho abituato a vedere con vogli la maggior parte arrivavano a Tripoli quando Benghazi era occupata dalle forze dell'asse ed era agibile veniva usata Benghazi fu usata in minima parte anche Tobruk nell'estate del 42 però rendiamoci conto signori delle distanze portare materiali giornalmente fino a qua comporta uno sforzo logistico che l'Italia e la Germania la Germania con le risorse che aveva devoluto a quel fronte non era pensabile di raggiungere quindi nella material schlacht che si sviluppa in Africa settentrionale non c'erano c'era da aspettarsi esiti troppo diversi insomma la marina poteva trasportare i rifornimenti ma la geografia e anche l'ascelleratezza di alcune decisioni prese da un certo comandante un po' troppo spesso mitizzato hanno giocavano il loro luogo ecco il loro ruolo ecco vediamo se c'è qualche altra domanda beh questa non sai non essendoci stata non c'è una risposta nel senso si parlava comunque di sicuramente utilizzo per ricondizione marittima assolutamente comunque c'era sempre il problema sappiamo che i nostri velivoli usati per la ricondizione marittima non avevano una grande autonomia quindi non c'era per dire il Sunderland italiano per capirci e sicuramente la portare sarebbe stata usata accompagnando la squadra per funzione di ricondizione marittima e per immagino anche per protezione aerea dubito fortemente per offesa aerosilurante perché non c'era c'erano i siluri da montare sui monoplani sì ci fu il silurotto anche quella una cosa un po' da approfondire non è così semplice poi sapete nel fine guerra il tentativo di armare un G55 con i siluri ma anche lì non era molto ideale quindi questo mi sento di rispondere così sarebbe bella anche una rubrica di consigli di lettura anche se spesso ne dai allora nei video lo sapete metto sempre le fonti ho fatto uno short dove vi consigliavo lotta per il mare di mezzo di Vincent Tohara che è la traduzione in italiano della sua opera Struggle for the Middle Sea che ve la consiglio molto perché dà uno sguardo a tutta la campagna del Mediterraneo non guardando solo all'Italia cioè ovviamente l'Italia e lo scontro tra Italia e Gran Bretagna ha un ruolo centrale però trattano anche degli scontro tratta anche dei problemi con la Francia di Vichy tratta anche dell'interessantissima campagna diciamo condotta dalla Kriegsmarine dalle poche unità della Kriegsmarine tra il 43 e il 45 quindi un'opera che vi consiglio è stata questa qui per capirsi questa ve la consiglio assolutamente perché per avere uno sguardo d'insieme penso non è perfetta però sì qualche altro consiglio ve lo darò vi ho citato prima riviste marittime e bollettine d'archivio sono anche due due voghi dove digitali dove potete reperire letture sicuramente interessanti tra l'altro rivista marittima che ha dei supplementi vi consiglio a colpi di cannone tomo 1 e tomo 2 usciti quest'anno quindi quelli anche sono consigli interessanti entro solo adesso in live potrei chiederti di voler parlare degli incursori che si sono avvenuti e vabbè Andrea qui spalanchi spalanchi un un tema infinito spalanchi un tema infinito ti dico che sono andato ospite in due live dagli amici di Accademia dei Pugni e da Storia dalla Storia dove abbiamo dedicato due live su gli incursori italiani la storia della decima massa massi in una abbiamo parlato in generale delle operazioni abbiamo parlato della notte di Alessandria poi ve le linko sotto la descrizione magari nell'altra della storia della storia abbiamo parlato sempre di quegli avvenimenti ma poi abbiamo fatto anche un discorso su le due decime massa se volete la distinzione netta che c'è tra la decima massa della regia marina e la decima massa della repubblica sociale italiana o se vogliamo la decima massa di borghese perché era tutti gli effetti un esercito privato ne abbiamo parlato ampiamente in quella live di come la decima massa di borghese non può vantare minimamente continuità con la decima massa della regia marina perché di fatto disubbidisce gli ordini del governo legittimo e la sua legittimazione viene data dall'occupante tedesco tramite dell'accordo stipulato tra tra borghese e la crins marina quindi questo aspetto molto interessante da approfondire vi linkerò quelle live e poi sulla decima massa e su tutta l'epopea degli incursori italiani inevitabilmente fornirà ampio materiale per più video e più live però a me lo sapete l'output di video è quello che è perché faccio questa attività nel tempo libero quindi con tutto quello che ne consegue sto cercando un po' di migliorare però i temi come sapete sono tantissimi interessantissimi dei 15 se avrete la pazienza di stare sintonizzati tratteremo piano piano tutto per quanto per quanto riguarda i portieri so si potete fare gli aerei dalle portieri e farli atterrare porti a terra oddio questa cosa mi suona qualche campanello penso per dire un esempio lampante i regioni 2002 sull'elittorio oppure pensano allo strano progetto di convertire il Bolzano in un incrociatore lanciaere un progetto incredibile ovviamente mai realizzato quindi di idee ce ne erano tante ovviamente non essendo stato portato avanti oltre a un certo punto lo sviluppo della componente imbarcata e della porta aerei è tutto rimasto lì allora vediamo altri 5 minuti se c'è qualche altra domanda nel frattempo ne approfitto per farvi qualche spoiler ovvero che sapete che ci sarà la parte 2 sui sommergibili italiani seconda metà di ottobre prima metà di novembre indicativamente ci sarà una live molto golosa 27 di ottobre se non sbaglio abbiamo deciso non vi voglio spoilerare troppo però ritroverete una compagine di relatori che è già stata presente sul canale e poi ci sarà una live su la prima live su un tema riguardante il mondo antico perché visto che ci insomma vedo che l'interesse per i temi navali c'è a me piace anche spaziare in altre epoche io personalmente sapete mi sono più formato su seconda guerra mondiale prima guerra mondiale ho iniziato anche a studiarmi un po' la guerra fredda un po' l'ottocento però se si va indietro conosco la storia ma non mi sento titolato a parlare approfonditamente di certe cose e quindi mi piace coinvolgere chi conosce le cose e quindi ci sarà la prima live sul mondo antico di cui non vi spoilerò nulla ancora e forse ce ne sarà anche una seconda sempre sul mondo antico entro la fine dell'anno quindi questi gli spoiler che che mi sento che mi sento di fare non sapevo del bolzano ma tipo il mogale giapponese non ricordo la proposta di conversione del mogame ma se non sbaglio nel video che ho fatto sulle porta aerei avevo mostrato il progetto di conversione del del bolzano molto curioso aspetta c'è un buon marco ci dice il quanto era i 356 era un'ipotesi per l'incrociatore da battaglia all'inizio degli anni 30 il progetto c'era comunque i cannoni non furono mai sviluppati in in italia come sappiamo 305 furono ritubati 320 e poi furono sviluppati 381 50 questo l'abbiamo già vista che cosa ci dice buon marco colgo l'occasione di lotto per un anticipo di risposta a ser jack magari aggiungo qualcosa ai commenti post video assolutamente i commenti rimangono poi sempre uno spazio di condivisione purché in toni civili educati perché chi offende viene bannato seduta stante bene direi che possiamo chiuderla qui siamo arrivati a un'ora e tre quarti un orario un timing abbastanza buono perché rende la live forse fruibile ai più e tra l'altro siete stati molto numerosi quindi mi fa piacere vuol dire che questo tipo di format vi piace e che magari replicheremo insomma se se volete una replica scrivetelo nei commenti mettete i like ah una cosa che mi sono scordato di dirvi in apertura è che ho attivato le donazioni ovvero la funzionalità di youtube che permette agli utenti di supportare tramite donazioni il canale la trovate nella un pulsantino nella chat dal vivo ma anche sotto i video possibilità di fare piccole donazioni al canale che ovviamente saranno investite in libri e al massimo qualche apparecchiatura per migliorare la qualità dei video e delle live ma data la spesa media mensile sui libri insomma la destinazione d'utilizzo sarà probabilmente quella e detto questo fatemi sapere se vi piace questo format perché in caso replicheremo sono dei format insomma che leggeri che mi permettono anche di approfondire temi come vi ho detto la storia del radar l'avevo iniziata un po' a studiare ma con l'occasione ho approfondito di più e ho messo le mani su testi che non avevo e quindi fatemi sapere se vi può piacere questo format nel caso come ho fatto per questa volta farò dei post dedicati su youtube instagram forse anche facebook dove vi chiederò di mandarmi le domande così che le posso insomma sostanziare meglio come spero di aver fatto stasera e quindi grazie di nuovo per per avermi seguito stasera un abbraccio a tutti per chi per chi pazzi casso milano e militalia il 22 ottobre ci potremmo anche vedere e e niente alla prossima su italia military archives grazie a tutti e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti